La comunità di Fisciano sotto shock per la scampata tragedia di domenica mattina. Una bimba di due anni è caduta dal terzo piano della sua abitazione e miracolosamente, nonostante le ferite riportate, può dirsi fuori pericolo. Quello che inquieta però gli abitanti della cittadina salernitana sono soprattutto i risvolti di questa vicenda e cioè l'arresto del padre della piccola accusato di tentato omicidio. L'episodio si è verificato intorno alle nove di domenica mattina, quando la bimba ha fatto un volo di una decina di metri. Subito trasportata a Ruggi di Salerno, per la piccola è stato necessario il trasferimento presso il Santo Bono di Napoli, dove attualmente ricoverata con l'omero fratturato e diversi ematomi ed escoriazioni sul corpo. Non rischia la vita, ma si attendono le prossime ore per accertare che per la bambina non ci siano conseguenze serie. E mentre la piccola veniva ricoverata presso il nosocomio napoletano, i carabinieri del comando provinciale di Salerno, insieme a quelli della compagnia di mercato San Severino, hanno iniziato ad indagare sulla dinamica dell'incidente. In serata è arrivata la scioccante notizia dell'arresto del padre quarantenne, arrivato dopo ore di interrogatorio. Pare infatti che sia stato proprio il padre a lanciare la bambina giù dalla finestra e per questo è stato arrestato e secondo fonti vicini alla procura condotto in carcere. Nelle prossime ore verrà ascoltata anche la madre della piccola che per tutta la giornata di domenica è rimasta al fianco della figlia. A Fisciano intanto si respira solo tanta tristezza per una vicenda che poteva trasformarsi in tragedia e che resta a volta nel mistero perché, a detta di molti, la famiglia era un esempio di unione e armonia, mai un problema né un chiacchiericcio, inspiegabile dunque quello che è successo domenica mattina.